Allora, io volevo far parlare un attimo Valerio Parigi che è Firenze Immobile, adesso io mi sono leggermente poco documentato ma è un blog, è un'iniziativa privata che in qualche modo vuole dare visibilità a tutte quelle che sono le soluzioni e ovviamente anche l'utilizzo della bicicletta di cui abbiamo parlato all'inizio del convegno ma non solo perché poi si parla molto di tram, di tramvie, voi avete delle esperienze dirette che avete fatto e degli studi sull'utilizzo di questo mezzo, ci dica qualcosa su questo. Salve, come sicuramente percepirete Fiorentino Doc ma come dire con un lungo passato mezza vita adulta in Nord Europa e discreto conoscitore della materia ma non in un ruolo istituzionale ma da Fiorentino che ha vissuto la vicenda strategia della mobilità tramvie eccetera circa negli ultimi quindici anni. Qui il primo punto in realtà bisogneremo andare indietro di circa venticinque anni per i primi passi di progettazione, approvazione in consiglio comunale della realizzazione di una rete tramviaria, fra l'altro con maggioranze di colorazione diversa fra di loro. In questo non siamo affatto nell'anomalia rispetto al resto d'Europa perché queste problematiche vengono affrontate da giunte di centrodestra, rosse, rossoverdi in tutto il mondo civilizzato in maniera molto simile con differenze minime. Firenze invece ha avuto delle quasi delle guerre civili in questo campo a cui ho partecipato in varie sedi come cittadino informato, schierato anche se non in ruoli istituzionali e politici, per facciamolo, andiamo avanti. Quello che vedete è il punto di partenza. Il punto di partenza è quello che vedete sotto. Firenze, e questo credo sia significativo, è al vertice nel senso del peggio mondiale per rapporto fra automobili e abitanti. 72 a 100. La problematica è comune a tutta Italia, molto diversa da tutto il resto d'Europa, ma nel caso di Firenze questo tenaglia ha strangolato in maniera oltre che la vita quotidiana dei cittadini tutte le problematiche sul degrado dei monumenti, della città d'arte, eccetera. Quello che vedete in alto è lo stato dell'arte attuale. La T1, attualmente abbiamo due linee, poi vi spiego come ci siamo arrivati, con lo sfondo della cupola del Duomo. Questo che c'è attualmente, lo vedete e l'avete visto anche già dall'ingegner Mantovani, è approssimativamente neanche circa un terzo sia della progettazione iniziale, ma direi del necessario per sottrarsi alla tenaglia di traffico bolgia a cui siamo condannati. Quando io partecipo a riunioni pubbliche in cui diciamo le problematiche tecniche è bene che siano presenti, ma non sono in primo piano, ho l'abitudine di fare degli esempi. Andiamo a vedere com'è nel resto del mondo. Uno di questi è Zurigo, che io frequento molto, che è un ottimo esempio perché è delle stesse città, delle stesse dimensioni circa di Firenze, poco più grande. È una città storica, quando dicevo, ah ma lì non c'è la cupola di Brunneschi? No, c'è tutto il resto però. Cioè è una città densamente storica, con 14 linee tramviarie, Esban a Gogola, Esban sono i treni suburbani, l'esempio è quello che vedete, Zurigo e Firenze. Dovremmo avere delle situazioni simili. Uno dei punti di rissa particolare era l'originario progetto di attraversamento del centro storico accanto a Battistero e Duomo di Firenze, li vedete. Questa è stata particolarmente interessante, quelli che vedete in alto e in basso a sinistra sono i rendering realizzati in fase di progettazione, e quella a destra era la propaganda antitranvia che fa sembrare due Sirio, gli stessi convogli, alti circa sei metri. Notoriamente un qualsiasi tram di qualsiasi parte dell'universo ha la sagoma, cioè altezza e larghezza all'incirca uguale di un autobus. questa problematica al momento da un pezzo si è fermata, come si è fermata dopo la realizzazione del primo tratto di circa otto chilometri scasi da Scandicic, il più popoloso comune limitrofo fiorentino fino alla stazione metropolitana ha durato sette anni, una follia, cose del genere nei paesi civilizzati si fanno in due anni mezza rete. Una linea di sette chilometri in sette anni è una follia, e questo sicuramente ha alimentato molto il malcontento ai tumulti popolari. curiosamente dopo la pausa di cinque anni durante il mandato Renzi, in cui si è fermato tutto con i cantieri in avvio, c'è stato poi un nuovo sprint recente in cui sono state aggiunte la linea T1 prolungata fino all'area ospedaliera di Caleggi e la T2 completamente ex novo nel popoloso quartiere di Novoli e l'aeroporto di Firenze. La cosa interessante è che in cinque anni è stato fatto di più che nei quindici anni precedenti, anzi, per dire la verità, nell'ultimo anno e mezzo. Questa è una dimostrazione che quello che si fa in tutto il mondo civilizzato quando la pressione della politica e della cittadinanza su chi realizza i lavori è sufficiente perché non è diversa che a Zurigo o in Finlandia. Questo è uno degli esempi che vedete. Cantiere, questo è il secondo tratto della T1, devastazione, scempio e com'è adesso? Tra l'altro io, uno dei due punti focali di vita è pochi centinaia di metri prima. i residenti sono stati realmente in tumulto e in disagi forti per circa cinque anni, comparsa la fermata davanti al portone, come ce l'ho io, il cambiamento da così a così. Guai a togliergliela. Questo fa capire, un piccolo esempio che io faccio spesso, avendo vissuto in mezzo mondo, quando per esempio sono state prolungate le linee tramviarie della ex Berlino-Ovest verso Berlino-Oest, verso Berlino-Ovest, ci sono stati fenomeni simili. I commercianti che dicevano andremo in fallimento, ci tolgono tutti i posti macchina, eccetera, eccetera. Questo è durato però un anno, cioè in un anno si è completato il prolungamento di una linea tramviaria di 7-8 km, tutta una rete, non in 5-15 anni. Questo fa una colossale differenza. Ciao!